Benvenuti a questo speciale di Edicola Bellun, dedicato ad uno speciale, a sua volta un inserto che abbiamo trovato oggi all'interno del Corriere delle Alpi, vivere ai tempi del coronavirus, un vademecum che potrebbe esservi utile, anzi di certo vi può essere utile in questa situazione di emergenza che stiamo vivendo con il coronavirus. Quindi diamo subito uno sguardo a questo interessante inserto elaborato dal Corriere delle Alpi, dal titolo appunto Vivere al tempo del coronavirus, dalla scuola ai viaggi, vediamo cosa ha preparato in questa edizione il Corriere delle Alpi, ovvero assenza, esami e gite, come funziona dalle elementari alle superiori, crediti formativi e tesi, discussioni online e così l'università affronta i problemi, lezioni via internet, i consigli dell'esperto non devono durare più di 20 minuti e ancora le mosse chiave per evitare il contagio ai numeri utili in caso di necessità, vacanze rimborsate e 7.30 rimandato il percorso giusto per non rimetterci. Questo quindi l'indice riferito all'inserto del Corriere delle Alpi, ripeto dal titolo Vivere al tempo del coronavirus, come superare le difficoltà quotidiane in mezzo ai divieti, obblighi e nuove zone arancioni che costringono a cambiare le abitudini. Siamo confortati dai nostri reti quotidiani e privilegiamo abitudini che ci fanno sentire più tranquilli come avessimo il pilota automatico, ma al tempo del coronavirus SARS-CoV-2 e della malattia che innesca COVID-19 arrivano decreti e ordinanze a sconvolgere le normali attività di tutti i giorni con l'ultima ondata legata alla creazione delle zone arancioni all'inesprimento anche nel resto del paese di misure già severe tra scuole e università chiuse, eventi cancellati, serrande, abbassate, viaggi saltati. Quindi passiamo subito al primo argomento, ovvero assenze, esami e gite, come funziona dalle elementari alle superiori. Le conseguenze scuole e università, dubbi e interrogativi dopo lo stop forzato, ma l'anno è salvo. Diamo un sguardo a questi punti della guida del Corriere delle Alpi, cosa cambia tra chiusura e sospensione didattica? In presenza di un provvedimento di chiusura dell'istituto scolastico è vietato l'accesso nello stabile a tutti, docenti, allunni, personale amministrativo, una misura del genere è stata presa nelle zone rosse. Nelle altre zone l'Italia è stata invece decretata la sospensione dell'attività didattica o fino al 15 marzo o fino al 3 aprile. In questi casi sono solo le lezioni ad essere interrotte, la scuola continuerà ad essere aperta e le segreterie continueranno a erogare il servizio. Punto 2. Gite e scambi culturali. Ci saranno i rimborsi? Il Governo ha previsto la sospensione dei viaggi e distruzione delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate o delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di tutta Italia fino alla data del 3 aprile. Il decreto del Presidente del Consiglio prevede espressamente che chi avesse già pagato il viaggio potrà avere il rimborso integrale esercitando il diritto di recesso. Domanda numero 3. Per tornare in classe servirà un certificato medico? È previsto che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni avvenga fino al 3 aprile nelle zone arancioni e al 15 marzo nel resto del Paese solo con la presentazione di un certificato medico anche in delego alle disposizioni vigenti. Nel caso di malattia iniziata prima del 25 febbraio per il rientro a scuola continuano a valere le regole regionali precedenti per le quali non è richiesta la certificazione medica. Quesito numero 4. L'anno scolastico rischia di essere allungato? Al momento non è un'ipotesi sul tavolo avendo specificato che la chiusura degli istituti è stata determinata da cause di forza maggiore non c'è alcuna necessità di effettuare il numero minimo di giorni di lezione. Allo stato attuale resta confermata anche la pausa per le festività pasquali. In questo momento nelle zone arancioni la ripresa della didattica in aula è prevista per il 3 aprile mentre nelle altre zone d'Italia si ritorna in classe il 16 marzo. Quesito numero 5. Cosa rischia chi non fa almeno 200 giorni di scuola? Il governo ha ribadito che essendo in blocco dell'attività determinato da cause di forza maggiore l'anno scolastico resta comunque valido al di là dei 200 giorni minimi. Quesito numero 6. Lo stop delle alle lezioni porterà a modificare i programmi? Allo stato attuale non sono previsti interventi di questo tipo ma è chiaro che lo spazio si è ridotto. Ovviamente se la sospensione didattica dovesse prolungarsi oltre a 3 aprile, limite previsto attualmente nelle zone arancioni, non è da escludere un intervento del Ministero dell'Istruzione finalizzato a ridurre o quantomeno rivedere i vari programmi di studio specialmente per gli studenti che dovranno affrontare la maturità. Domanda 7. Gli stipendi del personale saranno pagati comunque? Assolutamente sì. Gli stipendi saranno pagati regolarmente. Domanda 8. Maturità e terza media. Cosa succede per gli esami? Il Ministro dell'Istruzione, Lucia Zolina, ha specificato che se l'emergenza dovesse continuare sarà attuato un piano specifico per far sostenere ugualmente gli esami di Stato e di terza media al termine dell'anno scolastico. La titolare del MIURA ha quindi escluso allo Stato attuale qualsiasi ipotesi di sé politico. Domanda 9. Che effetti ci saranno sulle prove invalsi? In alcuni istituti le prove invalsi necessarie per l'accesso alla maturità sono state già svolte nelle scuole dove i test erano in programma a marzo e non sono stati ancora effettuati. È prevista una riprogrammazione non appena ripartiranno le elezioni, visto che avrebbero dovuto svolgersi entro la fine del mese. Domanda 10. Bisognerà recuperare verifiche e interrogazioni? Alcuni studenti temono che alla ripresa delle lezioni possano essere fatte molte verifiche e interrogazioni per recuperare i giorni di scuole persi. In realtà tutto dipenderà dagli insegnanti perché non esista alcuna norma che quantifica il numero di valutazioni necessario per dare un voto finale allo studente. Domanda 11. Servono autorizzazioni per le lezioni a distanza? I dirigenti scolastici possono, in accordo con gli organi collegiali competenti, attivare autonomamente lezioni a distanza durante il periodo della chiusura degli istituti e di sostegno delle elezioni. Non c'è bisogno quindi di alcun tipo di autorizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione. Ultima domanda per quanto riguarda il tema delle scuole all'interno della situazione del coronavirus. Alternanza scuola-lavoro. Chi non la fa? È sanzionato? Al pari delle prove invalsi per accedere alla maturità, gli studenti, a seconda del proprio percorso di studio, devono svolgere obbligatoriamente un certo numero di ore di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Si tratta dell'ex Alternanza scuola-lavoro. Alcuni istituti sono riusciti a far svolgere le ore necessarie prima dell'emergenza coronavirus. Altri invece no. Vista l'ezzetonalità del momento, è molto probabile che il MIUR decida per quest'anno di sospendere tale obbligo. Sempre per quanto riguarda l'emergenza, la guida alle regole. Stiamo leggendo questo inserto del Corriere delle Alpi. Dopo le scuole affrontiamo invece la situazione per quanto riguarda le università. All'università le elezioni vanno avanti? In aula no, né in zona rossa né altrove. L'indicazione della conferenza dei rettori cru e del ministro Gaetano Manfredi, è di procedere dove è possibile con la didattica a distanza, ma ogni Ateneo decide in autonomia. Esami universitari slittano o si danno a porte chiuse? Gli esami che sono stati sospesi dovranno essere riprogrammati dopo lo stop o potranno essere sostenuti in modalità telematica, ma questa è una decisione che spetta al singolo Ateneo. Per il rinvio della laurea si rischiano penalizzazioni? Prenderemo i provvedimenti necessari, ha rassicurato nei giorni scorsi il ministro Gaetano Manfredi. I nostri ragazzi non devono essere danneggiati a muoversi tra i primi. È stato il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco che dichiara tutti gli Atenei si stanno attrezzando per la laurea via internet. Cosa succede a chi non ha i crediti formativi necessari? Anche qui potrebbe fare scuola l'esperienza del Politecnico di Torino. Chi non avessero aggiunto i crediti necessari per il passaggio all'anno successivo avrà tre mesi per recuperarli. Ci sono problemi per i test di ammissione ai corsi? I test per l'ammissione a facoltà numero chiuso nelle università statali saranno come sempre a settembre. In alcune università private i test invece erano in programma in questi giorni e sono slittati a fine aprile o a maggio. Nei corsi di laurea statali a numero non chiuso ma programmato come scienze della formazione, i test potrebbero svolgersi anche prima di settembre. Esistono prescrizioni per le prove a distanza? Il decreto del Presidente del Consiglio non lo dice. Scrive che le attività didattiche possono essere svolte a distanza. Il Presidente della CRUI, la conferenza dei rettori, va oltre. L'esame orale può essere fatto a distanza. Altri quesiti che riguardano il mondo universitario, il decreto prevede il fermo di tutti i tirocini, sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, IVI inclusi, quelli per i medici, informazione per specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti e delle professioni sanitarie. I provvedimenti valgono per i corsi post-laurea? Sì, il provvedimento è esteso a tutti i corsi di formazione superiore, compresi i corsi di dottorato, i corsi professionali, i master, le università per le terze età. Sono bloccati anche uffici e biblioteche universitarie? Se in zona arancione la biblioteca rimane aperta solo per fini di ricerca, possibili i prestiti e le consultazioni da parte dei laureandi, studenti e dottorati, ricercatori, docenti. Nel resto del paese il prestito è garantito anche agli studenti, chiuse le aule e studio fino al 3 aprile, nelle zone arancioni fino al 15 marzo altrove. Fino a quando durerà questo stato di emergenza? Nelle zone arancioni fino al 3 aprile, nelle altre fino al 15 marzo, ma si ritiene negli effetti comunque oltre. Siamo attrezzati per i prossimi due mesi di cerettore del Politecnico di Torino. Nuove iscrizioni orate, sono possibili proroghe? In alcune università sono già state decise ed è il caso comunque di verificarlo direttamente con le segreterie amministrative dei singoli etenei. A Genova, per esempio, l'anno accademico, che di norma si chiude il 31 marzo, verrà prorogato al 30 aprile. I termini per iscriversi alle lauree magistrali sono stati ugualmente prolungati dal 9 al 12 maggio. Come funziona per i corsi con obbligo di frequenza? Accanto a una maggioranza di corsi di frequenza non obbligatoria, ce ne sono altri per cui è previsto l'obbligo con una soglia massima di assenze. È difficile ipotizzare una migrazione di tutti i partecipanti verso le learning. Gli studenti non sono tenuti ad avere una connessione internet e potrebbero non riuscire a collegarsi. Alcuni etenei, anche dopo lo stop, hanno già ipotizzato le lezioni in aule che consentano la distanza di sicurezza. si consiglia di informarsi con la propria università. Didattica online, i consigli dell'esperto. K, lezioni mai più lunghe di 20 minuti. Bisogna limitare la durata delle sessioni per questo tipo di insegnamento, altrimenti l'attenzione cala. La telecamera registra ogni nostra incertezza e questo cambio di marcia richiede flessibilità e un po' di umiltà. Altre norme e consigli. Febbre affanno, ecco i segnali chiave. Il decreto, le raccomandazioni igienico-sanitarie. Facciamo un ripasso, ne abbiamo sempre bisogno. Numero uno, lavarsi bene le mani. Prodotti appositi nei luoghi pubblici. Numero due, evitare gli abbracci a altri contatti. Distanza di un metro. Numero tre, non bere in bicchieri già usati da altri. Occhio agli starnuti. Numero quattro, niente antibiotici senza prescrizione. Pulire le superfici. E ancora, se la temperatura è più alta di 37,5, chiedere assistenza. B, gli anziani escano solamente per strette necessarie. C, residenze per la terza età, visite limitate. D, pronto soccorso agli accompagnatori, permanenza vietata. Sono presenti anche in questa guida i recapiti utili. Il numero unico nazionale è l'1500. Il numero per l'emergenza è sempre il 112. A livello invece regionale, i numeri della regione Veneto, leggiamo immediatamente quali sono. 800, 462, 340. Ma in questa guida trovate tutti quelli suddivisi per regione. Ancora dalla guida del Corriere delle Alpi, domande e risposte. Viaggi, così rimborso. E ancora, 7,30. Le nuove scadenze. Sono previste rimborsi per vacanze, viaggi, congressi, altri appuntamenti saltati per colpa del coronavirus? Sì. Nel decreto legge 9-2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, è prevista anche il rimborso del titolo di viaggio e dei pacchetti turistici cancellati. Lo disciplina l'articolo 28 e le garanzie sono dirette a tutelare tutti i tipi di viaggio, mancata partecipazione a eventi, riunioni o altre iniziative, sospese o rinviate sulla scorta di provvedimenti delle autorità e non solamente a chi lo è stato in quarantena nell'interno delle zone rosse o in aree comunque soggette alle imitazioni. Il rimborso spetta anche a privati e aziende che si sono visti annullare soggiorni, viaggio e trasferte con partenza o arrivo in aree interessate al contagio e a chi aveva acquistato in Italia titoli di viaggio anche in agenzie specializzate per località estera le quali non si può o non si è potuto accedere per il rischio di contagio. Chi si trova in questa situazione deve inviare al vettore la documentazione entro 30 giorni dalla cessazione del divieto in posto quarantena dall'annullamento, sospensione o rinvio dell'evento cancellato dalla data prevista per la partenza verso un paese in cui è stato imposto un divieto d'ingresso sia diritto a rimborso entro 15 giorni o a un voucher dello stesso importo da utilizzare entro un anno. In alternativa, si può esercitare il diritto di recesso ed organizzatore del viaggio a seconda dei casi può proporre un pacchetto equivalente o superiore rimborsare o emettere un voucher annuale di pari importo. Si è parlato di un nuovo calendario fiscale per la situazione di emergenza. Qual è adesso un approfondimento per quanto riguarda il 7,30? La misura che riguarda tutti quelli della dichiarazione dei redditi i cui termini sono rivisti. Innanzitutto la certificazione unica, l'ex-CUD. Le imprese avranno tempo fino al 31 marzo per l'invio della CU 2020 all'Agenzia delle Entrate. Poi il 7,30, la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati può essere presentata entro il 30 settembre e non più il 23 luglio. Sesso termine è previsto per il modello redditi PF dei lavoratori autonomi. Cambiano anche tutte le scadenze previste per l'invio del 7,30 tramite CAF. L'accesso online al 7,30 precompilato è il modello redditi invece che dal 15 aprile sarà possibile dal 5 maggio. Nonostante questi slittamenti è stato però ribadito che chi è nelle possibilità di farlo può presentare 7,30 da giugno e ottenere comunque se ha credito con il fisco il rimborso in busta paga dal mese successivo. Altro quesito saranno rimborsati i biglietti o abbonamenti per gli eventi sportivi o le gare di quei campionati che sono stati sospesi o che si giocano a porte chiuse? Secondo le associazioni dei consumatori il codice civile è chiaro il rimborso deve esserci. In alcuni casi è già stato avviato per il match Italia-Corea di Coppa Davis a porte chiuse la Ferdentennis ha disposto la restituzione anche da parte di società calcistiche di Serie A per altri no ma anche sulle procedure ognuno si sta muovendo in autonomia. Questo è l'inserto del Corriere delle Alpi dedicato alla situazione che stiamo vivendo con il coronavirus è l'inserto dal titolo Dalla scuola ai viaggi vivere al tempo del coronavirus e termina quindi questo speciale di Edicola Belun dedicato a questo approfondimento leggetelo se avete la possibilità prendete una copia del Corriere delle Alpi o rivedete questa edizione di Edicola Belun per i dettagli a tutti voi un buon proseguimento di giornate in compagnia come sempre di Radio ABM Voce delle Dolomiti Grazie a tutti Grazie a tutti